Leonardo, più che mai il ritornello è sempre lo stesso, se non segna manco uso nel Pescara sono problemi. Nelle ultime settimane state faticando negli ultimi 18 metri, perché secondo te? Ma credo che sia un momento, abbiamo anche cambiato modulo e credo che comunque nel complesso abbiamo creato. È chiaro che ci sono i momenti in cui magari non te ne accorgi neanche tocchi la palla e va dentro, altri un po' meno. Questo è così ma è solo frutto di un momento un po' così. Ma credo che sia una valida alternativa, io mi rallaccio a quello che ha detto il mister nel pre-partita, che i moduli possano servire ma quello che poi conta è l'atteggiamento che la squadra mette in campo. Ci siamo trovati bene sicuramente con questo modulo, però penso che quello che è più contato è stato il nostro atteggiamento che ci abbiamo messo sin dall'inizio, infatti penso che la partita sia stata soprattutto dal punto di vista caratteriale interpretata bene. Lunedì prossimo ci sarà questo posticipo a Crotone, altra gara dura in casa di un'altra formazione impelagata nelle zone basse della classifica. Sì, sarà un'altra partita difficilissima perché come ha detto Vincenzo nel giorno di ritorno le partite sono tutte più dure perché le squadre, i punti iniziano a pesare di più. È chiaro che noi andremo per cercare di trovare la prima vittoria di quest'anno.